questo è il modo di lavare bene bisogna lavare bene altrimenti aiuto aiuto allora Sì, sì, sì. Grazie a tutti. Ce la facciamo a finire queste cose qua. Mamma mia, non lo so, eh? Dove posso arrivare? E questo ce la metto rotto. Le taglio dopo. Ecco. 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 questo è troppo maturo questa è la città sopra la città con il latte Grazie a tutti. Grazie a tutti.